Si era reso irreperibile per evitare di finire in carcere, dove sconterà una condanna a sei anni e due mesi per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. Cosimo Perrone, 38 anni, di Torchierolo, è stato arrestato dalla squadra mobile di Brindisi, che lo ha rintracciato in un'abitazione del suo paese dove si nascondeva. Figlio del noto esponente della Sacra Corona Unita, Patrizio Perrone, detto Pantaloncino, faceva parte di una frangia dell'organizzazione, coinvolta anche nell'omicidio di Antonio Presta, avvenuto a San Donaci il 5 settembre 2012. Secondo le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, Cosimo Perrone, dal 2014, risulterebbe referente nel comune di Torchierolo per il gruppo della Sacra Corona Unita, capeggiato dal boss mesagnese Francesco Campana. L'arresto di ieri si inserisce in un contesto più ampio, in una strategia investigativa volta al contrasto della criminalità organizzata. E chiaramente la presenza di un personaggio con una sentenza definitiva sul territorio brindisino, che tra l'altro appunto si era reso irreperibile e di fatto latitante per sottrarsi alla condanna, riteniamo che potesse in qualche modo essere un pericolo concreto per la provincia brindisina alla luce dei nuovi riassetti criminali. L'arrestato, cui è stato notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Brindisi.